salve recensiamo oggi questa orchidea lego un set che non ho preso al lancio per un solo una questione di spazio e di linee che non faccio trovo che sia uno dei più bei set lego dedicato alle piante se non proprio il più bello adesso vi spiegherò anche perché è un prezzo secondo me abbastanza abbordabile di qualità è un set veramente molto bello da vedere una volta montato è una di quelle robe che da lontano non ti sembra una roba lego e soprattutto non ti sembra un set da 600 pezzi con tutto il vasetto la struttura le piante le foglie eccetera eccetera sembra veramente un set di maggior qualità insomma di altro livello il montaggio è abbastanza semplice c'ha una struttura che tiene un po il vasetto che farei in tutte le piante però a me piace molto questo vasetto riempito poi con della terra con dei pezzi al caso e poi ha una struttura technics diciamo che serve per tenere tutti i rami della pianta è una struttura che devo dire che quando la guardi da vicino però si nota perché è nera è tenuta indietro da due stecche che servono a tenere questi rami diciamo e queste si vedono molto mentre dalle foto come vedete anche a guardarla così si nota molto poco quando lo sai la vedi molto ed è una roba che insomma non fa esattamente la sua borca figura nel complesso però guardate i fiori sono proprio simpatici la pianta è carina la dimensione è anche molto giusta io l'ho presa per un regalo e fa davvero una bella figura e rimane là secondo me è carina i fiori sono molto semplici hanno all'interno dei pezzi unici non sapevo non mi ero accorto di questa cosa ce ne sono diversi pezzi unici o pezzi che non ho mai visto io in vita mia tipo questi che sono proprio dei fiorellini che vengono attaccati ai buchi di questi rami di questi gambi della pianta adesso starò dicendo termini sbagliati ma ci siamo capiti il montaggio si fa in due ore, due ore e mezza molto semplice sono 600 pezzi dopo tutto qualche problema nella lettura del manuale solo proprio in queste stecche verdi diciamo perché è molto importante mettere i forellini nella direzione giusta e nel manuale secondo me questa roba non era chiarissima tutto il resto è abbastanza semplice neanche troppo divertente da montare insomma a parte anche il vasetto molto ripetitivo i fiori sono sei fiori quanti sono? sei fiori tutti uguali si fanno uno sull'altro insomma non è che ci sia sta grande varietà però devo dire che per quantità di pezzi secondo me è una roba semi strepitosa fa la sua porca figura io lo trovo super interessante ho fatto la recensione in questo posto per farla un po' più svelta anche perché non è il set immediato dalla prossima settimana cominceranno ad arrivare l'eco set quello dei Will & Disney e Pac-Man e qui faremo montaggi live in diretta e le recensioni torneranno al solito posto non ve lo faccio vedere neanche in dettaglio vi faccio vedere magari qui dietro questo che vi dicevo della struttura la vedete io comunque lo trovo super deliziosa vorrei fatto un po' più di questo tipo di piante però con lo stesso vasetto stessa dimensione cambiando la tipologia di fiore facendone una serie anche collezionabile da mettere una vicina all'altro mentre l'eco sta sperimentando con generi di tutti i tipi e spesso il vaso non ce lo mette che è una roba che invece mi lascia un po' più perpresso vi ringrazio arrivederci alla prossima ciao 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 ciao